Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati in questo nuovo formato della top 3, top 3 in un minuto, quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere secondo me quali sono state le tre migliori mod uscite oggi. Al primo posto Pottinger Impress 200 WC Pro Multibailer, praticamente è un'imballatrice fusa con un carro raccoglitore che imballa tutto tutto tutto, potete anche usarla addirittura per trinciare e fare balle di trinciato, io non l'ho ancora usata, seguite il canale perché nel video di domani ci andrò a fare un test mod molto approfondito, per il momento rimane la mod più interessante della giornata. Bakery, semplicemente un panificio, né più né meno, solo che io adoro vedere le produzioni che hanno i modelli differenti da quelle di default. Shoema, TST Pack di Vertex, lo stesso identico pack che l'altro giorno era uscito solo per PC, oggi è anche per console, non mi dite le differenze perché non lo so, i modelli sono quelli, le funzioni pure, quindi non saprei.